E' cominciato il conto alla rovescia per l'edizione numero 112 della Mostra del Bitto in programma a Morbegno nel weekend del 12 e 13 ottobre prossimi. La manifestazione, che richiama visitatori da tutta la regione e anche dalla vicina Svizzera, quest'anno è abbinata con Gustosando in Valtellina e Morbegno in Cantina, arricchendo così l'offerta di eventi in città, dal centro al polo fieristico e sull'intero territorio della bassa valle. Nell'anno di Morbegno, città alpina, la mostra organizzata dalla comunità montana, col supporto del consorzio turistico Valtellina di Morbegno e la collaborazione del consorzio di tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto e dello stesso comune, avrà un particolare significato, proponendosi fedele alla sua secolare tradizione. Protagonista indiscusso sarà come sempre il formaggio Bitto, emblema di una tradizione casearia di eccellenza, tenuta viva da tanti pastori e casari attivi ogni estate sugli alpeggi. Sarà il consorzio di tutela a coordinare il concorso dei formaggi, momento di incontro e confronto per tutti gli operatori del settore lattiero caseario provinciale, che viverà il suo clou nelle premiazioni del sabato sera. Non solo formaggi, perché tra gli stand della mostra si troverà il meglio della produzione agroalimentare locale, con la fiera regionale dei prodotti della Montagna Lombarda, giunta alla sua 29esima edizione. Nel comitato organizzatore siedono istituzioni come la provincia e il BIM, operatori privati e associazioni di categoria, a riprova della volontà del territorio di fare della mostra del Bitto l'evento centrale nel ricco calendario degli eventi dedicati al territorio e alle sue peculiarità. Attorno al formaggio infatti ruoteranno tutte le altre eccellenze tipiche di Valtellina e Val Chiavenna, i vini proprio nei giorni della vendemmia, le miele al termine del raccolto, il miele, la bresaola e i pizzoccheri. Grazie.